Il pronto soccorso è un po' il punto caldo di un ospedale. Quali gli aspetti positivi del pronto soccorso dell'ospedale di Salerno? L'aspetto positivo è da cogliere nella risposta che riusciamo comunque a dare con uno sforzo in mane perché questo a tutt'oggi è l'unico pronto soccorso di una città non solo che richiede ovviamente in ambito emergenziale delle risposte ma forse di tutta la provincia. Quindi garanzie piene ai vostri utenti? Le garanzie piene riusciamo a darle, ripeto, con un grande sforzo che ci deve vedere però impegnati in una caratterizzazione un attimino più complessa. Ci sono dei lavori sicuramente in fieri per la ristrutturazione non solo dal punto di vista tecnico, mi auguro, di questo pronto soccorso ma credo ci siano anche delle intenzioni concrete per cercare di dare una risposta appunto per chi chiede qualcosa in emergenza e non si può rivolgere altrove.